Buonasera, volevo chiederti di non prendere impegni per il 7 novembre. Perché non devi prendere impegni per il 7 novembre? Perché è un invito, sei invitato da noi. Ma che cosa sei invitato da noi? Sei invitato intanto all'inaugurazione del sogno di Antonietta, questo centro di accoglienza e di incontro di cui ti ho già parlato in una precedente chat. Alle ore 18, giovedì 7 novembre, facciamo l'inaugurazione del sogno di Antonietta. Poi ci spostiamo in casa da Lanzaro. E dai 18 e 30 fino alle 21 facciamo una festa per la pace. Chiediamo a gran voce la pace. Alle 18 e 30 c'è la preghiera con Don Paolo Liva, con gli scout di Santa Teresa, con gli scout della Cattedrale e forse anche con gli scout del Dato Nuzio. Poi a seguire ci sono i ragazzini che ballano, c'è la Leos Dance che è il parà dei balletti. E poi ancora l'Accademia delle Mari e il Canterango. E poi c'è il concerto del grande Franco Cosa. E non mancare anche, perché ci saranno poca, potaccine, dolci, panzerotti e pettole fatte al momento. Quindi io vi aspetto giovedì 7 novembre alle 18.00. Poi tutti in Piazza Lanzaro da 18.30 alle 21 per stare insieme e per festeggiare e predare per la pace.